Letizia Costruzioni, realizziamo i tuoi sogni. Un cordiale saluto amici e amiche di TV6, bentornati all'appuntamento col meteo per questo. Mercoledì 24 agosto persiste un flusso d'aria più fresca proveniente dai Balcani che avvolge per lo più il centro e il sud Italia. Quindi porta dei temporali, soprattutto pomeridiani, sul medio-basso terreno e al sud. Qualche fenomeno anche in Abruzzo, in Molise, specie nei settori più interni. Tuttavia qualche piovasco, qualche addensamento un po' più compatto si manifesterà anche sulle coste. Sarà una giornata pertanto abbastanza instabile con addensamenti diffusi, specie nei settori interni e anche il rischio di acquazioni temporali. Soprattutto sulla Marsica, l'Alto Sangro, anche la Val di Sangro e il Vastese vedranno degli acquazioni temporali isolati. Anche la Costa Teatina non escludiamo qualche rovescio mattutino un po' più variabile sui settori settentrionali, quindi Terramano, Conca, Aquilana. Le temperature non subiranno grandi variazioni, massime comprese tra i 25, 27, 28 gradi, minime quasi ovunque, al di sotto dei 20 gradi, quindi una giornata piuttosto gradevole. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento. Letizia Costruzioni. Realizziamo i tuoi sogni.